Due giovani donne sembravano seppellite sotto una coltre di fiori. Sono sole nell'immensa carrozza scoperta, carica di mazzolini come un paniere gigantesco. Sul sedile anteriore, due cesti foderati di raso bianco sono colmi di violette di nizza e sulla pelle d'orso che copre le ginocchia delle dame, un mucchio di rose, mimose, violaciocche, margherite, tuberose e fiori d'arancio. Legati con nastri di seta sembrano schiacciare i corpi delicati, lasciando emergere da quel letto sfolgorante e profumato solamente le spalle, le brazza e un po' di corsetti, uno azzurro, l'altro lilla. La frusta del cocchiere è ricoperta di anemoni, le tirelle dei capalli sono imbottite di calofani, i razzi delle ruote rivestiti di reseda e al posto dei fanali due mazzi rotondi enormi sembrano gli strani occhi di quella bestia che corre tutta fiorita su quattro ruote. Il Landot percorre di gran trotto la strada, la Rue d'Antibes, preceduta, seguita accompagnata da una folla di altre vetture inghirlandate, piene di donne sommerse in un mare di violette. È la festa dei fiori, a Cannes, eccola arrivata al boulevard de la foncier, dove si svolge la battaglia. Lungo tutto l'immenso viale una doppia fila di equipaggi infiorati va a su e giù come un nastro senza fine. Dall'uno all'altro è un continuo lancio di fiori, passano nell'aria come proiettili, vanno a colpire i freschi visi, volteggiano e ricadono nella polvere dove li raccoglie un esercito di monelli. Una folla compatta, schierata sui marciapiedi e trattenuta dai gendarmi a cavallo, che passano senza far complimenti respingendo i pedoni curiosi, come per non permettere al popolo di mischiarsi ai ricchi, guarda rumorosa e tranquilla. Da una carrozza all'altra le persone eleganti si riconoscono, si richiamano, si mitragliano con le rose. Un carro pieno di belle donne, vestite di rosso come diavoli, attira e seduce gli occhi. Un signore, che somiglia ai ritratti di Enrico IV, lancia con allegro ardore un mazzo enorme trattenuto da un elastico. Sotto la minaccia del colpo le donne si nascondono gli occhi e gli uomini abbassano il capo, ma il grazioso proiettile, rapido e docile, descritta una curva, ritorna al padrone, che lo getta subito verso un altro bersaglio. Le due giovani signore vuotano a piene mani il loro arsenale, ricevendo in cambio una grandine di mazzolini. Poi, stanche dopo un'ora di battaglia, ordinano il cocchiere di seguire la strada di Golf Juan, che costeggia il mare. Il sole scompare dietro l'esterel, disegnando in nero, su un tramonto di fuoco, la sagoma della lunga montagna. Il mare si stende calmo fino all'orizzonte, dove si confonde col cielo, e la squadra navale, ancorata in mezzo al golfo, sembra un armento di animali mostruosi, immobili sull'acqua, animali apocalittici, corazzati e irsuti, che portino sul capo alberi fragili come piume e occhi che si accendono quando cala la notte. Le giovani signore, sdraiate sotto la pesante pelliccia, osservano languidamente. Finalmente una disse, che sere deliziose ci sono, in cui tutto sembra bello. Non è vero, Margot? L'altra rispose, sì, è bello. Eppure, manca sempre qualcosa. Che? Mi sento completamente felice. Io? Non ho bisogno di nulla. Già, pensaci bene. Qualunque sia il benessere che ci intorpidisce il corpo, desideriamo sempre qualcosa di più. Per il cuore. E l'altra, sorridendo. Un po' d'amore? Sì. Tacquero guardando davanti a sé. Poi, quella che si chiamava Margot, mormorò. Non mi sembra sopportabile senza questo, la vita. Ho bisogno di essere amata, sia pure da un cane. Siamo tutte così del resto, anche se non lo riconosci, Simone. Ma no, cara. Piuttosto che essere amata da uno qualsiasi, preferisco non essere amata affatto. Credi che mi farebbe piacere, per esempio, di essere amata da... da... Percorrendo con lo sguardo il vasto paesaggio, cercava da chi avrebbe potuto essere amata. Dopo aver fatto il giro dell'orizzonte, le caldero gli occhi sui due bottoni di metallo che brillavano sulla schiena del cocchiere. E riprese ridendo. Dal mio cocchiere? L'altra signora bozzò un sorriso e disse sottovoce. Ti assicuro che è assai divertente essere amata da un domestico. Mi è successo due o tre volte. Fanno certi occhi così buffi che c'è da morire dal ridere. Naturalmente ci tocca mostrarci tanto più severi quanto più sono innamorati. E poi, un giorno, col primo pretesto, metterli alla porta. Altrimenti, se qualcuno se ne accorgesse, diventeremmo ridicole. La signora Simone ascoltava, guardando fisso davanti a sé, poi dichiarò. No, decisamente. Non mi accontenterai del cuore del mio cocchiere. Raccontami come facevi ad accorgerti che ti amavano. Me ne accorgevo come con gli altri uomini, quando diventano stupidi. A me non sembrano tanto stupidi gli altri, quando si innamorano di me. Idioti, mia cara, incapaci di parlare, di rispondere, di capire qualsiasi cosa. Ma tu cosa provavi ad essere amata da un domestico? Ti sentivi come commossa e lusingata? Commossa? No. Lusingata? Sì, un poco. Ci lusinga sempre l'amore di un uomo, chiunque esso sia. Ma via, Margot. Sì, cara. Guarda, ti racconterò una strana avventura che mi è capitata. Vedrai com'è bizzarro e confuso ciò che avviene in noi in certi casi. Saranno quattro anni quest'autunno. Mi trovai senza cameriera. Ne avevo provate cinque o sei, che non erano buone a nulla. E già disperavo di trovarne una, quando lessi negli annunci economici di un giornale, che una ragazza esperta di cucito, ricamo, pettinatura, cercava un posto, pronta a fornire le migliori referenze. Parlava inoltre l'inglese. Scrisse all'indirizzo indicato, ed indomani mi si presentò la cameriera in questione. Era piuttosto alta, sottile, un po' pallida, con un'aria molto timida. Aveva begli occhi neri, un colorito incantevole, e mi piacque il subito. Le chiedi di mostrarmi i certificati. Me ne presentò uno in inglese, perché proveniva dalla casa di Lady Rangwell, dove era rimasta dieci anni. Il certificato attestava che la ragazza era partita di sua volontà per ritornare in Francia, e che durante il lungo servizio non c'era stato nulla da rimproverarle, se non un po' di civetteria francese. La putibonda frase inglese mi fece sorridere, e assunsi immediatamente la cameriera. Si chiamava Rose, ed entrò in casa mia il giorno stesso. In capo un mese, ne ero entusiasta. Era una scoperta meravigliosa, una perla, un fenomeno. Sapeva pettinarmi con gusto squisito, arruffava merlette di un capellino meglio delle migliori modiste, e sapeva perfino fare i vestiti. Ero stupefatta dalla sua abilità. Non ero mai stata servita così. Mi vestiva rapidamente con mani incredibilmente leggere. Non mi sentivo mai le sue dita sulla pelle, e nulla mi è tanto sgradevole come il contatto di una mano di una domestica. Presto mi abituai ad una eccessiva pigrizia, tanto che mi faceva piacere lasciarmi vestire dalla testa ai piedi, dalla camicia ai guanti, da quella ragazzona timida, sempre pronta ad arrossire, che non parlava mai. Dopo il bagno mi frizionava e mi faceva il massaggio, mentre io sonnecchiavo sul divano. Più che una cameriera la consideravo, credimi, come un'amica di condizione inferiore. Ebbene, una mattina il portiere chiese, con aria misteriosa, di parlarmi. Sorpresa, lo feci entrare. Era un uomo fidatissimo, un vecchio soldato, un tempo attendente di mio marito. Sembrava imbarazzato di quello che aveva da dirmi. «Finalmente», disse balbettando, «Signora, c'è giù il commissario di polizia del quartiere!» Domandai con tono brusco, «Cosa vuole?» «Vuole fare una perquisizione nel palazzo!» «Certo, la polizia è utile, ma la detesto. Trovo che non è un mestiere nobile!» E risposi irritata, quanto offesa. «Perché questa perquisizione? A quale proposito? Non voglio che entri!» Il portiere pretende che da noi sia nascosto un malfattore. Questa volta mi spaventai e diedi ordine di introdurre il commissario per avere qualche spiegazione. Era uomo molto ben educato, decorato della legion d'onore. Si scusò, domandò perdono, poi affermò che tra le persone al mio servizio c'era un forzato evaso di prigione. Mi indignai, risposi che garantivo per tutti i domestici della mia casa e glieli elencai. Il portiere, Pierre Courten, un vecchio soldato, non è lui. Il cocchiere, François Pingot, un contadino della champagne, figlio di un colono di mio padre, non è lui. Un mozzo di stalla, preso ugualmente nella champagne, figlio anche lui di contadini che conosco, più un cameriere che avete visto adesso. Nessuno dei due. «Allora, signore, è chiaro che vi sbagliate!» «Scusate, signora, sono sicuro di non sbagliarmi. Trattandosi di un criminale pericoloso, siate così gentile di far venire qui, davanti a voi e a me, tutto il personale. Da prima mi opposi, poi cedetti e feci salire tutti i domestici, uomini e donne. Il commissario li squadrò con una sola occhiata, poi dichiarò, «Non ci sono tutti. scusate, signore, manca soltanto la mia cameriera, una ragazza che non potete certo confondere con un forzato!» Domandò, «Posso vedere anche lei?» «Certamente!» Suonò il campanello per chiamare Rose che comparve subito. Appena entrata, il commissario fece un cenno e i due agenti, che non avevo veduto, perché nascosti dietro la porta, si gettarono su di lei e, afferratale per le mani, gliele legarono con una corda. Mandai un grido di furore, cercai di slanciarmi in sua difesa. Il commissario mi fermò. «Questa ragazza, signora, è un uomo che si chiama Jean-Nicolas Lissapé, condannato a morte nel 1879 per assassino, preceduto da violenza carnale. La pena gli fu commutata in ergastolo, scappò tre mesi fa. Lo stiamo cercando da allora. Ero sbigottita, disfatta. Non riuscivo a crederci. Il commissario riprese ridendo. «Non posso darvi che una prova. Ha un tatuaggio sul braccio destro». Fu rialzata la manica. Era vero. Con un certo cattivo gusto il poliziotto soggiunse per le altre constatazioni. «Fidatevi di noi!» e si portarono via la mia cameriera. «Ebbene, lo crederesti?» «Il sentimento predominante in me non era la collera per essere stata imbrogliata così, ingannata, resa ridicola. Neppure la vergogna di essere stata vestita, spogliata, maneggiata e toccata da quell'uomo. Ma una umiliazione profonda. Una umiliazione femminile. Capisci?» «No, non troppo bene. Ma via, rifletti». Lo avevano condannato. «Per stupro!» Io pensavo alla donna che lui aveva violentata e mi sentivo umiliata. «Capisci adesso?» La signora Simon non rispose. Guardava davanti a sé i due bottoni lucenti della livrea con uno sguardo fisso e misterioso con quel sorriso da sfinge che le donne hanno qualche volta. Grazie a tutti.